Lunga intervista all'assessore con delega allo sport Pepe Speranza sulla nuova querela nata tra la Turis e l'amministrazione comunale. C'è preoccupazione in città specialmente fra i tifosi e la Turis dopo la decisione di mettere in vendita la società. Quali sono le possibili conseguenze per lo stadio soprattutto? Ci sono degli interventi da fare allo stadio riguardo l'omologazione che puntualmente ogni anno va fatto e ieri abbiamo definito una quota che preleveremo dal fondo di riserva per le spese da farsi sullo stadio per l'omologazione e per le attrezzature di prefiltraggio. Quindi credo che da qui a qualche settimana siamo già pronti per la risoluzione di questa questione. Riguardo le preoccupazioni dei tifosi circa il cambio di gestione della Turis, credo che l'amministrazione può fare quasi niente o ben poco. Se un'azienda o un imprenditore decide di lasciare per i suoi legittimi motivi che può avere, non credo che un'amministrazione locale si possa intromettere e dire la sua. L'amministrazione fa la parte dell'amministrazione, la società fa la parte della società. Quindi al netto dei cambi della società lo stadio dovrebbe essere sicuro? Stando a quello che abbiamo definito ieri definitivamente non è che prima non lo era, anzi credo che negli ultimi due anni e mai nella storia sportiva della nostra città calcistica si siano spesi tanti soldi per la struttura del Liguori. Solo così per dare qualche numero negli ultimi due anni si sono spesi all'incirca 2 milioni di euro che sono pari ai vecchi 4 miliardi. Quindi voglio dire l'attenzione da parte dell'amministrazione per quanto riguarda il calcio attorno del greco e soprattutto per quanto riguarda la prima squadra c'è, nessuno la può negare. Parliamo sempre di sport, un settore che ovviamente nell'ultimo anno ha subito una battuta d'arresto. Ci sono delle iniziative per far ripartire magari anche le piccole attività come le palestre? Sicuramente, noi non a caso abbiamo chiamato Restart, la ripartenza in città di attività sportive. Avremo una serie di manifestazioni che vanno dal triathlon che per la prima volta verrà a Torre del Greco, lo faremo credo tra fine agosto e inizio settembre. Avremo una serata estiva di raduno di mountain bike, che praticamente avremo questa manifestazione fatta per il centro storico che sarà una cosa molto simpatica. Io ero dell'avviso di farla nella parte pedemontana, invece l'organizzatore mi suggeriva di farla in notturna e farla in città e la trovo una cosa molto simpatica. Avremo la tappa finale del giro in rosa della Campania e la vincitrice praticamente parteciperà alle Olimpiadi. Poi abbiamo qualche gara bodistica, così come anche avremo ulti al triathlon. Ecco un'altra manifestazione importante a cui tengo in particolar modo un raduno di Pugilato, che forse faremo all'aperto in una delle serie d'estate. Grazie a tutti.